buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv cominciamo subito con la lettura dei giornali come sempre a partire dall'almanacco del giorno e vediamo che oggi giovedì 9 marzo 2023 si festeggia santa francesca romana visse tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo sposata al nobile romano lorenzo ponzani si offrì come oblata con nove compagne nella basilica di santa maria nova al foro poi morto il marito si ritorò in un monastero ebbe il dono della profezia e miracolosamente ebbe un dialogo continuo con il suo angelo custode questa è un po la prerogativa di santa francesca romana quindi quando si pensa a questa santa si pensa anche all'angelo custode un aspetto questo della religione che spesso viene trascurato vediamo anche le previsioni del tempo eccole qua pubblicate sul corriere adriatico questa è la grafica una situazione di tempo stabile e asciutto tra sole e nuvolosità irregolare le temperature sono piuttosto miti le massime arrivano addirittura tra i 18 e 20 gradi insomma la primavera comincia a sentirsi i venti sono moderati e tesi da sud ovest da sud per quanto riguarda in modo particolare sulle coste e da ovest sud ovest per quanto riguarda l'interno il mare leggermente mosso e allora apriamo il cosa apriamo questa mattina vediamo il resto del carlino il resto del carlino sulla pagina di fano eccola qua vediamo un'apertura inconsueta oggi che il giornale ci presenta si tratta si prende anzi diciamo così l'occasione di quanto è avvenuto purtroppo quella tragedia di due aeroplani che si sono toccati mentre facevano delle evoluzioni in insieme ad altri ad altri velivoli sono caduti e per fortuna non hanno causato danni e a quanto era in terra ebbene questo ha fatto ricordare al sacrificio di un pilota qui la cui figlia lo ripropone sotto forma di uno spettacolo particolare insomma che evidenzia come ci furono degli eroi sia nel passato che nel presente anche mio padre morì in volo dal suo sacrificio è nato un recital dopo la tragedia di guidonia quella appunto i due velivoli che si sono scontrati e quindi poi hanno atterrato uno in un campo l'altro in una via di una località urbanizzata per fortuna senza causare vittime Damiana Covre figlia di un pilota d'aviazione ho rivissuto un incubo in quella tragedia ha dichiarato ebbene suo padre Tullio a cui la fondazione Carnage ha assegnato la medaglia d'argento al valore civile perché riuscì ad evitare una sicura strage mentre con un guasto al suo aereo precipitò in mare piuttosto indirizzò insomma il velivolo in mare nello stretto di Sicilia piuttosto che andare a cozzare contro una casa contro un abitato facendo ulteriori vittime dopo la tragedia di guidonia dunque parla Damiana Covre quando allo sport è sotto le lenzuola la mia guida al match più intimo questo è il titolo che riguarda la pubblicazione di un libro di un libro particolare scritto da un medico dello sport si chiama Bruno Fabri ebbene leggere un libro su come lo sport fa bene il sesso oppure il sesso fa bene allo sport certo è un argomento accattivante l'eclettico Bruno Fabri 65 anni medico sportivo e musicista torna a parlare di un tema tabù una regolare attività motoria fa bene all'attività sessuale ha dichiarato ed esistono protocolli specifici per evitare i flop soddisfatti o rimborsati questo è lo slogan del medico sportivo che si riferisce appunto a questo rapporto molto molto particolare tra sesso e sport ebbene il Carlino dedica proprio a questa notizia una seconda apertura con una lunga intervista nella seconda pagina dedicata a Fano l'articolo di spalla invece riguarda una dichiarazione del consigliere regionale Luca Serfilippi accelerare le diagnosi e migliorare l'assistenza sulle endometriosi pronta a una proposta di legge è una risposta all'appello che è stato lanciato sempre nelle pagine del resto del Carlino nell'edizione di ieri da una signora fanese che allestirà un banco per così attirare l'attenzione su questa malattia che purtroppo colpisce non poche donne ed è molto dolorosa e poi si parla di Zolfo si parla di Zolfo non dal punto di vista del diavolo ma dal punto di vista delle miniere in questo articolo a fondo pagina sempre del resto del Carlino l'epopea dei minatori di Zolfo in un racconto di musica e immagini appuntamento domenica prossima alla fabbrica urbana in via Montevecchio a Fano con il gruppo Obelisco Nero e l'arte di Luca Caimmi si sarà un concerto disegnato per tramandare la storia dei minatori i cosiddetti sepolti vivi nelle miniere di Zolfo del nostro territorio Cabernardi abbiamo poi tutta la zona della Solfatara tra Marche e Romagna si intitola Pane allo Zolfo l'evento culturale transgenerazionale in programma per domenica alle 18 diceva appunto la fabbrica urbana di via Montevecchio 57 l'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del patrimonio storico e culturale legato alle miniere di Zolfo che esiste tra Marche e Romagna ed erano veramente tempi molto molto duri una vita pericolosa una vita anche che spesso si concludeva tragicamente per le malattie ed ora passiamo invece a Colli al Metauro vediamo il titolo che si riferisce a una scuola di Saltara la scuola Desi scuola Desi sei anni di impassi sono dei lavori che sono fermi non vengono eseguiti e questa struttura rimane inaccessibile appunto per lo scopo per cui è stata creata ma il Comune non cerca le colpe bocciata la proposta di istituire un atto di indagine sono aspetti tecnici che non riguardano il Consiglio ebbene di questo argomento si è parlato nella seduta consigliare di martedì quando la maggioranza ha respinto l'atto di indirizzo dell'opposizione che chiedeva di costituire una commissione per accelerare anzi per accertare per accertare i motivi che hanno portato ai gravi ritardi sui lavori che devono essere eseguiti nella scuola Desi e quindi tutto rimane nello stato di fatto un altro articolo riguarda il biodigestore la grande manifestazione di circa mille con la partecipazione di mille persone che si è svolta nei giorni scorsi a Barchi biodigestore di Barchi una guerra infinita l'udienza di ieri al Tar delle Marche in merito ai ricorsi presentati dal Comune di Terre Roveresche è durata oltre un'ora e mezza ma per conoscere la sentenza il Tribunale Amministrativo dovrà attendere dai 30 ai 60 giorni e quindi ci saranno ancora molti ritardi e in mezzo a questi ritardi proteste, dichiarazioni, illazioni e via e via dicendo passiamo alla pagina di Urbino eccola qua la politica dice no all'uscita di Magalotti ebbene l'intenzione del dottor Magalotti un luminare della sanità del nostro territorio di abbandonare Pesaro di abbandonare Urbino per andare a Fano insomma ha suscitato un vespaio di polemiche c'è una forte preoccupazione per l'intenzione del noto medico responsabile della senologia di lasciare l'ospedale di Urbino lui infatti è direttore dell'unità operativa complessa di senologia ed è specialista della chirurgia oncologica al seno quindi un settore molto molto delicato ed importante per la salute delle donne c'è il PD di Urbino che insorge come PD di Urbino insieme a tanti cittadini del territorio ci opponiamo, viene detto e chiediamo che Magalotti possa continuare il suo prezioso lavoro insieme a tutta la Brest Unit nell'ospedale di Urbino e che venga rafforzato tutto il reparto oncologico comunque la Brest Unit non si tocca l'assicurazione viene data dall'assessore alla sanità del comune di Urbino Elisabetta Foschi che rassicura anche il capogruppo regionale della commissione sanità a Baiocchi sta seguendo da vicino la vicenda speriamo che rimanga è un po' così l'invito e anche il desiderio appunto di molte utenti dell'ospedale di Urbino passiamo a Fossombrone passiamo a Fossombrone per quanto riguarda la baita delle Cesane la compriamo e la rilanceremo ha dichiarato il sindaco Massimo Berloni che intende gestirla insieme ai comuni di Urbino e Isola del Piano una gestione dunque associata tra Fossombrone, Urbino e Isola del Piano e questa è l'idea che frulla in testa al sindaco Berloni per quanto riguarda il futuro della baita sulle Cesane per il quale il comune metaurense ha già sborsato una caparra pari al 10% della base d'asta di 160.000 euro è una struttura importante per tutti coloro che frequenteranno le Cesane ha dichiarato soprattutto per i ciclisti in quanto sarà un punto, una tappa di attrazione di particolare importanza e poi attenzione alle truffe ascoltiamo i consigli a Urbania c'è stato un incontro nel circolo Acri dopo il primo bocciodrobo comunale si è ripetuto a questa iniziativa un incontro informativo sulla sicurezza e la prevenzione alle truffe erano presenti anche il sindaco Marco Ciccolini il comandante dei carabinieri il comandante della polizia locale la partecipazione dei cittadini è stata attenta attenzione seguite questi consigli perché ne vale del vostro patrimonio ma anche della vostra sicurezza ed ora apriamo la pagina di Pesaro apriamo la pagina di Pesaro perché a proposito di truffe qui ci sono veramente molte notizie interessanti purtroppo insomma ci sono problemi soprattutto per i piccoli risparmiatori lo vediamo qua in questo articolo un contratto di assicurazione per un'auto era farlocco ho pagato 305 euro per l'assicurazione ma era solo una truffa pensava di essere assicurato ed era tranquillo Sirio Giovanelli storico gestore del bar della stazione di Fano aveva fatto un contratto online con un'agenzia di assicurazione per la propria auto invece in seguito ad un controllo fatto dalla polizia locale l'auto è stata ritrovata scoperta di assicurazione e quindi il contratto non voleva nulla i truffatori sono intascati i soldi e poi l'autista ha dovuto pagare 600 euro per riscattare l'auto che era stata sequestrata più altri soldi per quanto riguarda l'assicurazione quindi una truffa veramente onerosa per quanto riguarda quindi attenzione nel fare contratti online è meglio parlare a tu per tu con le agenzie però bisogna sempre sperare nella buona stella e poi qui abbiamo purtroppo il caso veramente increscioso di una polizza fantasma quella di Montecchio per la quale sono stati raggirati parenti e amici di infanzia una signora semisvenuta nell'agenzia della cattolica di Fano ha scoperto che i suoi 40.000 euro erano spariti sono almeno 30 le persone che si sono accorte di aver perso tutto il buco supera il milione e mezzo e c'è veramente chi si è sentito male ricorrendo ai sali per non svenire altri hanno pianto a ridotto qualcuno continuava a non crederci perché amico di infanzia o parente di colui che aveva così fatto questo questo inghippo insomma adesso chiamarlo con il giusto nome vedremo poi come andrà a finire la questione ebbene che cosa è accaduto è accaduto che i risparmi affidati per l'investimento di molti risparmiatori all'assicurazione della compagnia cattolica Patrizio Pierucci di Montecchio che poi è morto di infarto il 15 novembre scorso sono spariti ebbene sono spariti c'è chi ha perso 40.000 euro c'è chi ha perso una cifra importante e purtroppo questi soldi chissà se si potranno riavere comunque coloro che hanno perso tutto hanno intentato delle cause di fronte al tribunale per cercare di riavere quanto è stato tolto e vediamo anche questo tentativo ecco come riconoscere l'operatore che dà buca una serie di consigli di Adusbef c'è l'avvocato Floro Bisello che dà dei consigli preziosi nel momento in cui si stipolano questi contratti contro la stipola degli accordi tarroccati ecco appunto l'articolo che è prezioso e poi parliamo dell'8 marzo parliamo dell'8 marzo parliamo delle mimose che è un affare anche per i fiorai perché così come a San Valentino si vendono i cioccolatini oppure anche le rose all'8 marzo si vendono le mimose mimose buone ma poche dice il titolo del resto del carlino i mazzi il cui costo varia da 2,5 a 30 euro a volte sono sostituite con i fiori fiorai dunque le prese con la carenza del prodotto ma hanno cercato di tenere i prezzi bassi una commessa le rose di San Valentino erano rincarate di più quindi da un minimo di 2,5 euro al mazzetto fino ad una composizione voluminosa di oltre 30 euro sono state regalate da mariti, amiche, sorelle, fratelli, madri e padri eppure qualcuno l'ha comprata per se stessa la mimosa è sempre un simbolo per quanto riguarda la giornata internazionale della donna per la salvaguardia dei loro diritti ed ora vediamo dei piccoli furti piccoli furti ma molti molti piccoli furti clienti mano di velluto in farmacia rubano colla per la dentiera io direi anche la colla per la dentiera perché sono veramente tanti i prodotti che in farmacia esposti negli espositori vengono sottratti con le mano leste ebbene sono piccoli oggetti scatole contenenti profumo oppure creme esposte al banco e poi ci sono ancora altri piccoli prodotti che vengono così sottratti dalle farmacie profumo e filo interdentale spazzolini e perfino la colla per le dentiere pensate tutto ciò che è a portata di mano qualche volta c'è uno che ha la tentazione di allungare la mano e quindi metterla in borsa ed è questo un danno per non poche farmacie un altro articolo che riguarda che riguarda Pesaro vediamo se lo riesco a rintracciare lo guardiamo invece sul Corriere Adriatico sul Corriere Adriatico volevo farvi vedere come il piazzale d'annunzio sta assumendo anzi assumerà una forma molto molto bella centoditte in corsa per rendere più bella la piazza delle Cascone il Cascone è quello di Valentino Rossi lo vedete qui come troneggia in questa bellissima area circolare in quel di Pesaro tante sono le aziende interessate alla riqualificazione di largo d'annunzio prima scrematura in comune per scegliere le otto che andranno alla gara quindi si proceda sprombattuto per l'arredo di questa piazza e poi si parla ancora del mercato delle erbe al comune spettano affitto e allestimenti le richieste di confesalcenti oggi l'assemblea sul trasferimento degli operatori che dovranno abbandonare il chiostro di San Domenico la piazzetta del mercato dietro piazza del popolo per diverso tempo perché poi i lavori si protrarranno assai ma alla fine loro vogliono tornare in quel posto ovviamente sarà un posto più bello più riqualificato anche dal punto di vista storico perché quel chiostro risale al 1200 Pierpaolo sciocche dopo l'autopsia e per l'addio non c'è in nulla osta si parla dell'autopsia compiuta sul corpo di Pierpaolo Panzieri ucciso con 15 pugnalate dal suo amico che ora è in prigione a Timisoara in Romania la famiglia in attesa del via libera della procura per riavere il corpo intanto riaperta l'attività dove il giovane lavorava è un lungo, purtroppo lunghissimo addio quello di Pierpaolo Panzieri e lo strazio è acuito da un centelinare di giorni un tempo elastico teso all'infinito che va dalla morte violenta del 27enne ad opera del 30enne Michael Alessandrini al giorno delle esequie ancora appunto il corpo non è stato rilasciato Ubriaco picchia gli agenti che vogliono controllarlo il 37enne già restato a dicembre per lo stesso reato era uno che continuava a bere nonostante i guai in cui si era cacciato vediamo anche la pagina di Fano si parla delle reazioni per quanto riguarda la notizia che è stata data ieri sulla rinascita del casellino di Fenile i cui tempi ormai sono stati definiti avremo una circonvalazione con i caselli di Fano e di Pesaro e questo caso diverrebbe sempre di più secondo Stefano Aguzzi e Francesco Baldelli i due assessori regionali inutile la circonvalazione definita con il completamento degli interquartieri perché il casellino dato alle opere compensative che sono state già realizzate a Fano costituirebbe un imbocco sull'autostrada per andare a Pesaro e quindi poi rientrare nel casellino di Santa Veneranda Aguzzi per Forza Italia saluta con soddisfazione il recupero del progetto ASPI che dovrebbe essere realizzato nel 2026-2027 insomma quelle sono un po' le date e poi abbiamo una reprimenda del sindaco per quanto riguarda il sindaco di Fano Massimo Seri per quanto riguarda il caso dello stacco della fornitura dell'acqua al condominio di Bellocchi perché alcuni utenti non pagavano le bollette mentre altri sì ebbene questo atteggiamento dell'ERAP è imperdonabile per il sindaco Massimo Seri non si possono punire degli inquilini che pagano regolarmente le bollette se richiamo in causa la regione per il distacco delle utenze idriche una simile gestione non è più tollerabile ha dichiarato è necessario prendere provvedimenti adeguati il sindaco è indignato per la situazione creatasi con il nuovo distacco dell'acqua potabile il secondo in tre mesi nei quattro condomini ERAP a Bellocchi si ottiene in causa anche la regione Marche perché la regione Marche non ha ancora definito bene l'assetto dell'ERAP il nuovo assetto dell'ERAP e quindi poi questa situazione dei contatori deve essere stroncata perché occorrono dei sottocontatori in modo che ciascuno paghi secondo i propri consumi e secondo le proprie possibilità e poi abbiamo invece una bella notizia il Santa Croce al Day Surgery alta formazione chirurgica ebbene la Santa Croce la chirurgia al Santa Croce di Fano non solo è un riparto dove si eseguono interventi chirurgici programmati in regime di ricovero limitato con grande professionalità ma è anche una sede di alta formazione chirurgica ebbene all'interno dell'ospedale fanese infatti faranno formazione sul campo i chirurghi già specializzandi al quarto e quinto anno per quanto riguarda gli specialisti in anestesia e a rianimazione e gli infermieri che la scorsa settimana hanno terminato la prima fase del corso di alta formazione ebbene è un'achipe di chirurghi che farà da insegnanti diretta dal primario dal direttore del reparto Alberto Patriti poi ci sono anche qui gli altri medici li vediamo Mirko Lucertini Patriti abbiamo Paolo Tescione ed Estefan Elias Fares sono i medici appunto che gestiscono il laboratorio il day surgery quel laboratorio così con operazioni che possono essere inseguite in giornata e quindi il paziente non rimane degente oltre le 24 ore ma anche prima insomma 12 ore viene dimesso a terra roveresche ancora si parla di digestore sfida davanti al TAR spunta l'ipotesi di una perizia nell'udienza di ieri due ricorsi di comune e comitato con la risposta dell'azienda abbiamo visto l'articolo pubblicato anche dal resto del Carlino invece per quanto riguarda Mondolfo abbiamo un articolo che riguarda la partecipazione e la formazione un nuovo consiglio dei bambini sono stati eletti 16 rappresentanti tra 4 scuole elementari di Mondolfo e Marotta proclamano il nuovo consiglio dei bambini quindi questa iniziativa di coinvolgere i bambini anche nell'assetto della città per quanto riguarda la viabilità per quanto riguarda il gioco i parchi le aere verdi insomma è molto importante e dilaga un po' nel territorio vediamo anche Senigallia accampati nelle case popolari blitz della finanza quattro denunciati due degli stranieri trovati negli appartamenti Erap nei guai anche legittimi assegnatari che ora sono all'estero è l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani sempre alle ore 7 e questa sera alle ore 20.30 del TG di Fano TV occhio alla notizia per quanto riguarda le notizie del giorno quindi vi auguro una buona giornata grazie per l'ascolto a risentirci Grazie a tutti